La terapia del melanoma metastatico sta conoscendo dei bazzi in avanti incredibili. C'è tutta una nuova classe di farmaci, di terapie, sia di target therapy sia di immunoterapia che si sta facendo, molti di questi sono già in commercio. Di recentissime introduzioni in Italia, un farmaco appartenente alla classe della cosiddetta target therapy, si tratta del Dabrafenib e ci facciamo raccontare i dati più significativi di questo farmaco in generale della classe a cui appartiene dalla dottoressa Vanna Chiarion Sileni dell'Istituto Oncologico Veneto a Padova, dove si occupa, dove è responsabile dell'unità di oncologia sia di melanoma che di esofago. Allora, dottoressa, incominciamo dalla novità, poi dopo parliamo anche degli altri. Quali sono i dati principali di efficacia al sostegno del Dabrafenib, per i quali appunto il farmaco è stato registrato? Allora, il farmaco è stato registrato sulla base di uno sviluppo come per tutti i farmaci in oncologia, dalla fase 1 alla fase 2 alla fase 3, in cui si dimostrava un tasso di risposte complete che era tre volte superiore, anche quattro possiamo dire, a quello raggiungibile con la chemioterapia storicamente e in base ai dati di efficacia nella fase 3 che dimostrano un aumento del tempo alla progressione di malattia rispetto alla chemio classica storica di confronto che è il deticene, con un aumento anche della sopravvivenza. La caratteristica saliente degli inibitori di B-RAF in generale è quella dell'efficacia molto rapida, per cui la cosa che si apprezza di più dal punto di vista clinico è nei pazienti sintomatici il rapidissimo miglioramento dello stato fisico con un'altrettanto rapidissima possibilità di sospendere la terapia antidolorifica per i pazienti che per esempio hanno in atto una terapia antidolorifica e comunque miglioramento dei sintomi e questo lo si vede già nel giro di 3-4 settimane. L'attività sulle lesioni che si può misurare con l'attack, con l'imaging è più lenta, è meno eclatante, però tutto si concretizza in un tasso di risposta che è superiore al 50% e la cosa anche più importante dal mio punto di vista come clinico è che tutti gli studi hanno confermato questo dato e la consistenza con farmaci diversi in studi diversi dà forza al dato, perché a volte ci sono studi con dati contrastanti anche se avevano il potere, hanno un potere statistico importante, mentre questo è un dato conservato. Senta, ma si dà da solo oppure si associa la chemioterapia come terapia quasi di fondo? No, i dabrafeni, i metori di biraf in genere sono stati sviluppati in monoterapia e la somministrazione per i dabrafeni è di due compresse due volte al giorno che corrispondono a 150 mg per due volte a stomaco vuoto e quindi a metà mattinata e prima di andare a letto in genere. E quando è che scatta l'indicazione a utilizzarlo? Qual è la situazione clinica giusta? Allora, in base alle indicazioni AIFA il farmaco viene prescritto con registrazione del paziente nel registro. Il farmaco può essere prescritto dagli oncologi quando esiste melanoma biraf mutato in V600 che presenta malattia non operabile, che può voler dire un stadio terzo non operabile e un stadio quarto non operabile. Quindi queste sono le indicazioni d'uso. Anche le metastasi cerebrali perché si è visto che il farmaco è attivo anche nei pazienti con metastasi cerebrali e questo è un dato che per esempio con la chemioterapia non si era osservato sporadicamente. La chemioterapia ha dato efficacia, non solo è efficace nelle metastasi cerebrali ma si è anche visto che lo è parimenti sia nei pazienti che hanno ricevuto una radioterapia precedente sia nei pazienti che non hanno fatto nessun trattamento precedente e nel melanoma le metastasi cerebrali sono la quarta causa di mortalità e quindi è un dato importante. Senti, il farmaco come dicevo all'inizio arriva quando già un altro farmaco da circa un anno è presente, ci tratta del Vemurafenib. Cosa possiamo dire su Vemurafenib? Beh, Vemurafenib ha fatto da apripista nel senso che è stato il primo farmaco di questa categoria per cui si sono sviluppati gli studi di fase 1, di fase 2 e di fase 3 e quindi il primo che ha avuto la registrazione e che anche in Italia abbiamo avuto la possibilità di prescrivere sempre in registro AIFA. La differenza nei due farmaci ovviamente non esiste nessun studio di confronto diretto quindi non possiamo dire uno è uguale all'altro, uno è meglio all'altro però come tassi di risposta, come durata della risposta, come sopravvivenza i dati sono simili, hanno un profilo di tossicità diverso, per diverso non intendiamo che uno è più tossico dell'altro ma che le tossicità di un farmaco non sono, le tossicità maggiori nel Vemurafenib non sono quelle maggiori nel Vemurafenib, quindi i profili non sono sovrapposti e questo fa sì che ci possano essere indicazioni diverse anche secondo la tipologia del paziente, è uno spazio per tutti e due. Senta, invece voglio gettare un occhio al futuro, nel senso che ci sono altri inibitori di Vemurafenib in sviluppo, ce n'è almeno uno e soprattutto si stanno studiando associazioni di questi inibitori con altri farmaci, se ci spieghi un attimino il razionale di questa associazione. Allora, quello che si è visto negli studi finora fatti è che essendo il melanoma una neoplasia fortemente con instabilità genetica importante, il meccanismo con cui si instaura la resistenza a questi inibitori specifici delle mapchinasi è più veloce che in altre neoplasie in cui inibitori tirosinchinasi hanno un'attività che può durare anche due anni tipo l'imatinibne e i gist. In questo caso invece mediamente la resistenza insorge dopo i sette mesi. Qui vorrei però aprire una parentesi perché non in tutti i pazienti insorge la resistenza e man mano che accumuliamo conoscenza e tempo rispetto alle sperimentazioni fatte, vediamo che c'è una coda di pazienti che è intorno al 10-15% dipende dagli studi, che non ha sviluppato resistenza che potrebbe andare verso la guarigione, questo è un dato prematuro da affermare però ci sono pazienti che stanno facendo il trattamento da tre anni. Queste resistenze sono all'interno di un percorso molecolare della via delle mapchinasi e ci sono molte resistenze che sono MEC dipendenti che è la molecola che sta sotto, che viene fosforilata dall'attivazione di BRAF. Associando un inibitore di MEC si ritarda l'insorgenza della resistenza e si aumenta il tasso di risposta iniziale. Questo è stato verificato in tre studi di confronto, due fatti con la combinazione della Glaxo, uno verso i dabrafenib e uno verso i bemurafenib e un altro studio fatto con la combinazione della Roche verso i bemurafenib. Ce n'è un altro in corso con la combinazione sempre di un inibitore di MEC e di un inibitore di BRAF della Novartis verso il loro inibitore di BRAF verso il bemurafenib, un tre braccia. Quindi tutte le aziende che hanno queste molecole hanno scelto di percorrere questo cammino. Un futuro che potrebbe ancora essere migliore per questo tipo di pazienti? In base ai dati pubblicati di recente su New England abbiamo gli ultimi due studi che non hanno ancora raggiunto la mediana di sopravvivenza e quindi sicuramente non abbiamo ancora dati definitivi sulla sopravvivenza e siamo comunque sopra i 15 mesi. Teniamo presente che partiamo da sopravvivenze storiche che erano sui nove mesi.